Noi abbiamo fatto il programma Riccanza e diciamo che attraverso i social facciamo vedere questo lifestyle molto glamour, fatto di feste, shopping, viaggi, promuoviamo la nostra bella vita. Sì, ci sentiamo un modello positivo. Scusa, ma si può dire però una cosa? Cioè che il modello positivo da contrapporre alle cose sbagliate che abbiamo visto non sono i giovani di Riccanza? Per favore, ma vi rendete conto che adesso in Italia stanno arrivando questi programmi su come vivono i giovani milionari e i figli di papà che sono uno schiaffo alla nostra generazione, alla precarietà, alla disoccupazione, ma altro che modelli. Questi hanno fatto televisione dicendo frasi come i poveri sono poveri ma sono tanti quindi vendiamo a loro e ci arricchiamo noi. Ma quale modello? Ma me quando vedo quella roba lì mi viene da dire ma si godessero la loro ricchezza finché possono perché un giorno verremo a chiedergli il conto per come vivono, per la vita che fanno e che ostentano il loro lusso sui social, sulle spalle poi della nostra generazione e della gente che lavora.